Se la recente indagine demoscopica ha rivelato come i sindacati confederali siano in crisi e abbiano avuto un collasso del numero degli iscritti, pare che a ritrovare terreno siano invece le sigle più piccole. Tra queste l'Unione Sindacale di Base. A spiegare le ragioni della crescita dell'USB e del trasbordo di diversi attivisti dalle sigle confederali è il segretario regionale USB Pubblico Impiego, Luciano Vasta. L'USB, l'Unione Sindacale di Base, in tutta Italia sta registrando un crescente consenso anche da parte di pezzi importanti di alcuni sindacati della CGL, in particolare che stanno abbandonando il loro sindacato di origine per aderire all'USB. Anche in Calabria per esempio, soprattutto nella zona del Cosentino, abbiamo registrato degli importanti spezzoni della CGL e soprattutto dei dirigenti e di quadri della CGL che stanno abbandonando in massa il loro sindacato per aderire all'USB perché all'interno dell'USB stanno trovando il gusto per la lotta e il gusto della difesa dei diritti dei lavoratori senza secondi fini se non quello di tutelarli direttamente. Tiziana Bagnato per la CNews24 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 Tiziana Bagnato per la CNews24